Come pregare in modo efficace C'è una condizione per ottenere, chiedere C'è un modo per farlo nel migliore dei modi, chiedere bene A volte non chiediamo e quindi non otteniamo Altre volte chiediamo male perché non sappiamo farlo Altre ancora sbagliamo perché non ci rivolgiamo direttamente a Dio Quando ci accostiamo a Lui Dobbiamo riconoscere innanzitutto che Egli è Ovvero Colui che può soddisfare ogni nostra richiesta Egli è il Dio dell'impossibile Per cui quando ci rivolgiamo al Signore Facciamolo fiduciosi che risponderà alle nostre richieste Se sono secondo la Sua volontà Nei tempi e nei modi che Lui deciderà Noi non sappiamo quello che è meglio per le nostre anime Lui sì Affidiamo la nostra vita con fiducia nelle sue mani E presentiamo le nostre richieste al trono della grazia Crediamo che Dio possa fare ogni cosa nella nostra vita E ciò che Egli farà sarà la cosa migliore per noi Non pensiamo mai che Dio non ci ascolti Il Suo orecchio è sempre attento ad ogni nostra richiesta Per esaudirla Per esaudirla Per esaudirla Per esaudirla Per esaudirla Per esaudirla